Sembrerà un po' patetico ma volevo ringraziare mia madre e tutto il mio ufficio che si fanno Un culo incredibile grazie a tutto lo staff di Notopia siete bravissimi e io sono pesantissimo lo so E ovviamente non posso non ringraziare tutte le persone che sono venute agli in store in questa settimana E che verranno in queste prossime due settimane ho addirittura incontrato dei ragazzi che dalla Toscana Sono venuti fino a Roma perché non c'era un in store in Toscana persone che si sono fatte centinaia di chilometri Ore di fila, tutti i fan che sono rimasti la notte e le ore, i giorni nell'e-commerce per cercare di acquistare Perché l'e-commerce si bloccava Tutto quello che mi avete scritto in queste settimane per supportarmi e tirarmi su di morale Vi assicuro che mi è stato molto d'aiuto quindi grazie di cuore Mi stavo dimenticando di ringraziare il maestro Michele Canova che più che un produttore è stato uno psicologo in questi mesi Mi ha aiutato a gestire le paranoie della paternità e un sacco di dilemmi esistenziali che stavo e sto affrontando Mi ha aiutato a gestire le parole Ma che gioco per cani è questa roba? Cioè non sembra un gioco per cani Mi ha aiutato a gestire le parole Fede attaccata da Mati e da Elsa Amore 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 Grazie a tutti.